Ciao, oggi facciamo una ricetta base della pasticceria, e cioè la crema pasticcera, che potete utilizzare per farci delle torte, dei bignè, oppure per farci dei dolci a cucchiaio, insomma è ottima. Io utilizzo questa ricetta che secondo me è perfetta, cioè quella che ho preso dal canale The Crazy Cake, però l'ho modificata un pochino, e vi vado ad elencare subito gli ingredienti, che sono 4 tuorli, che sono un po' spappolati, 170 grammi di zucchero, 40 grammi di maizena e 500 ml di latte. Se voi volete, potete anche metterci la buccia grattugiata di un limone, poi vi dico durante il video quando, io però evito per stavolta. Quindi andiamo a fare insieme la crema pasticcera. Allora, per prima cosa andiamo ad unire alle uova, cioè ai tuorli, lo zucchero e andiamo ad amalgamarli insieme fino a che avremo ottenuto un composto chiaro e spumoso. Ok, abbiamo ottenuto praticamente lo zabaione. Ah, se voi la volete al limone, dovete amalgamare uova, tuorli, zucchero e anche la buccia. In questo caso, come vi ho detto, non l'ho messa. Ora dovete setacciarci dentro la maizena e sempre con le fruste andate ad amalgamare la maizena alle uova. Ora abbiamo ottenuto questo e andiamo ad aggiungere un po' alla volta il latte. Adesso vi faccio vedere. Ok, quindi dopo aver amalgamato il latte e aver quindi eliminato ogni traccia possibile di grumo, andiamo a mettere il tutto sul fuoco, sul fuoco medio, finché il tutto non si addensa. Ovviamente dovete girare nel frattempo. Io inizialmente il fuoco lo metto alto, così il tutto intanto si riscalda per bene, poi dopo un po' lo abbasso e lo metto a fuoco medio. E ovviamente continuate sempre a girare. Ok, come vedete si è addensata perfettamente e quindi è pronta. Lo capite anche dal fatto che, vedete, inizia a bollire. E quindi capite che non può addensarsi più di così e quindi è pronta. Adesso, se volete, la mettete a bagnomaria in acqua fredda per farla freddare più velocemente e la girate ogni tanto. Oppure la lasciate a temperatura ambiente, sempre girandola ogni tanto e quando sia un po' antipedita, ci mettete sopra una pellicola trasparente, sempre a contatto con la crema perfettamente, almeno non si forma la pellicina fastidiosa sopra la crema. e poi la mettete in frigo per usarla quando volete. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Adesso voi potete utilizzarla per tutto quello che vi pare. Io, ad esempio, ci farò una torta di fragole. E niente, ci vediamo alla prossima video ricetta. Un bacione. Ciao ciao! Ciao ciao!